Sì, è stata una grande soddisfazione perché ho trovato il mio primo gol tra professionisti. A maggior ragione davanti a una cornice di pubblico come oggi è stato più e molto più emozionante. Peccato per il pareggio, di nuovo è arrivato nei minuti finali, però non ci dobbiamo rammaricare, dobbiamo continuare su questa strada. Oggi penso che abbiamo espresso un buon calcio, soprattutto nel primo tempo. Poi magari nel secondo tempo eravamo un po' più stanchini o magari un po' più fiacchi. Niente, contiamo la settimana e ci aspettano queste partite finali che sono troppo importanti per noi. Riccardo, il primo gol tra i professionisti ha sempre un valore speciale. Parlando invece della partita, cosa ti senti di dire per almeno 40-50 minuti? Meglio il Verona, bene il Pescara nella prima parte di primo tempo e nel finale di partita in cui avete avuto le occasioni per vincerla questa gara? No, no, assolutamente. Oggi il Pescara c'è stato, l'abbiamo dimostrato. E appunto, come hai detto te, nei minuti finali il Pescara ha avuto tante occasioni per trovare il 2-1. Secondo me è un periodo che siamo un po' più sfortunati e niente. Comunque resta il fatto che abbiamo fatto una buona partita oggi. La domanda Riccardo è perché dopo il gol del vantaggio vi siete tirati dietro, soprattutto nel secondo tempo. Quando il Verona ha trovato il pareggio siete tornati a costruire tanto. Ma non so. Presidente, arrabbiato? Magari, non lo so, guarda, dal campo io non te ne accorgi comunque i movimenti della squadra. Perché te ne accorgi sicuramente voi più dall'alto, magari chi guarda la partita. Magari può essere un fatto mentale, ma come ho detto prima io penso che il Pescara oggi abbia spesso un buon calcio. E niente, andiamo avanti, come ho detto prima, su questa strada. A proposito di mentalità, come ci si approccia alle prossime due partite di campionato? Ora ci sarà il turno di riposo, poi a Venezia gara durissima contro una squadra che è nelle zone basse della classifica e poi l'ultima con la Salernitana. Beh, come ho detto prima, devono essere delle finali. Andiamo in un campo come il Venezia che devono strappare punti anche loro per la salvezza. Noi invece dobbiamo strappare per il nostro percorso, per i play-off soprattutto. Andiamo là assolutamente con la mentalità di vincere. Noi ci eravamo sentiti qualche settimana fa, oramai siamo abituati a questa postazione e ti dicevo a questo punto la sensazione è che il Pescara non possa più fare a meno di te. Credo che con oggi sia ufficiale questa affermazione. No, guarda, i complimenti mi fanno piacere da parte vostra. Come ho detto nell'altra intervista, io penso solo a lavorare, migliorarmi giorno dopo giorno. Quando poi sono supportato dai compagni, i compagni sono con te, riesci a dare il meglio di te stesso, riesci a esprimere le tue qualità. Quindi devo ringraziare la squadra, ringraziare il ministro, insomma la società che mi ha dato fiducia. E io spero di ripagarle in queste partite come ho fatto oggi, come ho fatto magari in altre partite. E spero di, come ho detto altre volte, di coronare questo sogno che è la promozione. Riccardo, vogliamo raccontare l'azione del gol, quel lancio di Brugman. Poi ti sei portato davanti al portiere del Verona. Quando hai visto la palla in rete, cosa hai pensato? No, Gas mi ha dato una palla fantastica. Quando ho visto la palla entrare sono impazzito di gioia. Comunque era il mio primo gol tra i professionisti e istinto sono andato a esultare con i nostri tifosi.